Le azioni d'acqua e le alluvioni hanno scavato un vero e proprio tunnel sotto le gradinate, una struttura che quando era agibile conteneva oltre 5.000 persone e faceva perfetto proprio per una manifestazione come il festival regionale del Focco, quindi la speranza e l'auspicio è che Nuoro ritrovi presto questa struttura, da qui l'appello del sindaco Bianchi alla regione dove già c'è un progetto per intervenire. Ancora gruppi, siamo sempre con gruppi di Nuoro. Tutto bene? Direi di sì, laudo anche alla prudenza di chi ha fatto indossare i bambini minorenni non accompagnati e ha visto passare che indossavano il cap giustamente perché insomma benché la sfilata sia in abito tradizionale alla prudenza è bene non derogare. Anche se quello è un invito che varrebbe anche per i grandi. Lei certo, però indossare... Moltissime...